Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. Tragedia scuotente a Sirolo, nella provincia di Ancona. Un giovane di soli 23 anni, Clage di Bitri, è stato brutalmente ucciso con colpi di fiocina in mezzo alla strada. Un'ondata di paura ha attraversato i passanti, che sono rimasti immobili a guardare la scena. L'individuo responsabile di questo atto spaventoso è stato identificato come Fata Mellul, originario dell'Algeria. La tragica vicenda è avvenuta ieri pomeriggio, domenica 27 agosto, lungo via Cilea, nelle vicinanze di una rotatoria. Clage di Bitri ha perso la vita cercando di difendere un amico, un padre di famiglia, che veniva brutalmente picchiato da un automobilista. Quest'ultimo è stato successivamente arrestato a Falconara dai carabinieri, alcune ore dopo l'evento. Il giovane ha cercato di intervenire per separare i due contendenti, ma il killer ha fatto ritorno alla sua auto, ha aperto il portabagagli, ha impugnato una fiocina e ha sparato verso di loro. Il colpo ha colpito il petto del giovane, che è deceduto istantaneamente. Dopo aver commesso l'omicidio, il killer è fuggito a bordo di un'opelastra grigia, lasciando dietro di sé uno scenario di sgomento tra i presenti. L'arrivo di ambulanze e carabinieri ha creato un clima di confusione mentre il corpo del giovane operaio residente ad Ancona giaceva sotto il sole. Le prime ricostruzioni indicano che la causa scatenante dell'omicidio potrebbe essere stata una questione di precedenza non rispettata. Pare che il killer fosse alla guida di un'auto dietro a quella di un padre di famiglia di Ancona, con la moglie e i due bambini piccoli a bordo. L'automobilista sembrava essersi attardato a passare, il che ha innescato suoni insistiti del clacson da parte dell'auto guidata dal killer, che era guidata da una donna. A questo punto, sembra che un gesto del padre abbia scatenato una reazione violenta da parte dell'uomo. Quest'ultimo è sceso dall'auto e ha iniziato a picchiare il padre, gettandolo a terra e continuando a colpirlo. Un'altra macchina con tre ragazzi a bordo, amici della famiglia presa di mira, si è fermata dopo aver visto la situazione. La vittima è scesa dalla macchina per aiutare l'amico in difficoltà, ma questo ha ulteriormente irritato l'aggressore. Quest'ultimo è tornato all'auto, ha aperto il portabagagli, ha preso la fiocina e ha sparato verso i due. Il giovane di 23 anni è stato colpito al petto e ha perso la vita all'istante. Nonostante la fuga del killer dal luogo del crimine, è stato catturato poco dopo a Falconara. Sul posto sono giunti i carabinieri, personale medico, il pubblico ministero Pucilli e il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella. Dopo alcune ore dall'omicidio, il killer è stato individuato a Falconara, ancora armato, e senza indumenti superiori. Si suppone che sia di nazionalità algerina. E tu cosa ne pensi di tutta questa vicenda? Scrivilo nei commenti. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.